Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo al bilancio di fine anno della commissione consigliare affari generali del comune di Gela, obiettivi raggiunti in numerosi ambiti in cui si è lavorato e per l'anno nuovo che è appena cominciato ci si adopererà con impegno. Sono tante le attività svolte nel 2016 dalla commissione affari generali del comune di Gela e tante altre sono in agenda per l'anno che è appena cominciato e quanto è emerso questa mattina durante l'incontro che si è avuto con i cronisti nella sala dei gruppi consigliari, obiettivi raggiunti con grande impegno, identico impegno che sarà messo in campo per le altre iniziative in calendario. Abbiamo trattato una serie di regolamenti tra cui il gonfalone, il regolamento cimiteriale, l'affidamento degli ortubani, dei beni confiscati alla mafia, la figura del nonno vigile, la presenza dell'ispettore ambientale, la videosorveglianza, sono una serie di regolamenti che presto arriveranno in consiglio comunale quindi aspettiamo con ansia l'approvazione di tutti questi regolamenti. La commissione ha potuto presentare alla nostra città tutti i lavori svolti fino ad oggi, tutti i programmi e progetti che riguardano i regolamenti che riguardano la nostra città sono stati affrontati con grande partecipazione non solo da parte della commissione ma di tutte le persone che sono state chiamate per poter dire la loro, possiamo dire che la nostra commissione è una commissione partecipativa non solo da parte dei propri componenti ma da parte anche di altri organi della città e non solo da parte della nostra amministrazione. Mi piace ricordare che per quanto riguarda il regolamento delle micro e piccole imprese sono intervenuti tutti gli operatori economici della nostra città per gli incarichi legali, abbiamo ascoltato gli ordini degli avvocati per i sedini stradali ad esempio abbiamo ascoltato parte appunto la GELAS e altri operatori che si occupano di questa materia quindi siamo lieti veramente per tutto quello che abbiamo fatto e molto di più faremo in quest'anno per la nostra città e per il bene appunto della nostra città. Il presidente della commissione affari generali Giuseppe Guastella. Questa commissione ad oggi si pregia di aver appunto rilasciato diversi pareri in merito a numerosi regolamenti ha sentito diverse associazioni di categoria e cittadini sia liberi che associati per appunto cercare di portare avanti delle iniziative di interesse appunto popolare. E' importante parlare appunto di un regolamento che da poco è stato appunto redatto in collaborazione con l'amministrazione comunale il regolamento sugli incarichi legali dove per la prima volta si apre appunto ai patrocinatori legali insieme a tantissime altre novità delle quali già abbiamo parlato negli scorsi giorni. Altri regolamenti ai quali questa commissione appunto ha partecipato a darne appunto parere è il regolamento sui beni confiscati dalla criminalità organizzata, l'ispettore ambientale volontario, il regolamento sulle strisce blu e quant'altro. La pagina della cronaca nera è la polizia di Gela che indaga su quanto è avvenuto ieri in città. Una donna di 50 anni si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele con un coltello conficcato nell'addome. I medici sono intervenuti immediatamente. L'episodio però si tinge di giallo perché non è stato ancora chiarito se si sia trattato di un tentato suicidio o di un tentato omicidio. Le condizioni di salute della cinquantenne non sono gravi. E ieri a Gela, vittima di un arresto cardiaco, è deceduto un ragazzo di 37 anni. Si chiamava Salvatore Farruggio. Lavorava alle dipendenze di un noto supermercato di Via Venezia. Lascia la moglie e un bimbo di appena tre mesi. Salvaguardia dell'ambiente a 360 gradi è l'obiettivo della giunta municipale di Gela. L'anno, che è appena cominciato, dovrà dare i suoi frutti. E in quest'ambito si inseriscono alcune novità. Lo dice l'assessore comunale Simone Siciliano. Anno nuovo, regole vecchie per la differenziata. Continuiamo a differenziare i rifiuti con maggiori ingentivi per i cittadini. Nel prossimo giorno verrà avviata presso il Centro Comunale di Raccolta la pesatrice dei rifiuti che permetterà ai cittadini di ottenere dei bonus tanto più alti quanto più è la capacità di differenziare i rifiuti e di portarli per il Centro Comunale di Raccolta. L'assessore siciliano entra nel merito di come funzionerà il servizio. Fondamentalmente verranno pesate le frazioni differenziate, quindi plastica e metalli, vetro, carta e cartone e per il peso verranno associati dei pundeggi che poi permetteranno di ottenere dei buoni spesa da scomputare in un certo senso relativamente alla quota e all'atari che viene pagata. Un servizio rivolto ai privati che guarda alle attività commerciali. Ovviamente sì, con un maggior riguardo rispetto ai cittadini che è la parte su cui si deve sensibilizzare maggiormente. I sindaci dei comuni di Gela e Niscemi hanno condotto un primo sopralluogo per verificare i danni prodotti dalle recentissime gelate sulla piana. Le temperature rigide delle ultime ore infatti stanno compromettendo le coltivazioni di numerose aziende agricole che operano a cavallo dei due territori comunali. Si teme soprattutto per le produzioni orticole in pieno campo, tra cui spiccano centinaia di ettari di carciofeti. Oggi attiveremo gli uffici comunali per raccogliere le segnalazioni dei produttori agricoli, hanno detto i sindaci Domenico Messinese e Francesco Larosa, in modo da avviare l'iter per la declaratoria dello stato di calamità naturale. L'economia del comparto rischia di rimanere cancellata senza gli adeguati sostegni pubblici. E disagi e disservizi nella distribuzione idrica a Caltanissetta, nella zona balate a Mazzarino, Butera e nella zona balneare di Gela. A comunicarlo è Caltacqua. La causa è da debitare ad un guasto elettrico verificatosi in una zona dove attualmente le squadre tecniche non possono accedere in merito al maltempo. Il fornitore Siciliacque ha comunicato che non è in grado di fornire la dotazione idrica quotidiana proveniente dal sistema Ancipa. Per questo motivo Caltacqua ha dovuto procedere alla rimodulazione del piano quotidiano della distribuzione in alcune aree. Contemporaneamente è stata avviata una sistematica azione di monitoraggio per seguire costantemente l'evolversi della situazione. A tre giorni dall'emergenza meteo la città, in questo lunedì più lunedì di tanti altri, si è risvegliata sotto una coltre di gelo che tuttavia non ha portato grandi criticità. Nonostante le insistenze di numerosi cittadini, il sindaco ha deciso di non emettere nessuna ordinanza di chiusura a scuole. Solo una direttiva ai dirigenti scolastici di avere una maggiore flessibilità oraria con chi arriva da fuori. Un problema termosifoni si è presentato alla scuola Don Milani che però ha avuto il tempo dimezzato, ovvero il mezzorario, e da domani pare debba ritornare tutto alla normalità. Abbiamo fatto un giro in città accompagnati dal sindaco Giovanni Ruvolo e dal direttore dell'emergenza Giovanni Mantione che per poter così constatare la reale effettività dei lavori svolti con i mezzi spargisale, partendo proprio da Santa Barbara. Sì, devo dire che il piano che avevamo predisposto con l'ufficio tecnico ha funzionato molto bene. Fin dai primi momenti le squadre sono state operative insieme a una rete di associazioni che ha coadiuvato l'attività del comune. In particolare voglio segnalare la presenza delle associazioni di volontariato di protezione civile, della società Caltambiente e le forze dell'ordine, in particolare i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri che sono stati impegnati insieme a noi a gestire l'emergenza. Fin dalle prime ore abbiamo cercato di garantire la viabilità negli assi principali e poi piano piano abbiamo garantito la viabilità nelle vie di maggiore percorrenza come via delle Calcare, per esempio, via della Regione e già nella giornata di giorno 6 la viabilità era praticamente garantita nella maggior parte della città. Lei oggi ha scelto di non chiudere le scuole. Un attimo di critica, però una scelta che è rimasta forte. Perché? Ma perché non ci sono le condizioni. La viabilità è perfettamente garantita. In questo momento stiamo facendo un'ulteriore perlustrazione e i punti critici sono veramente pochissimi. La protezione civile per i prossimi giorni cosa dice? Noi a oggi non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni. Aspetto il bollettino dalle ore 16, ma non si prevede nessun peggioramento. Anzi, le previsioni dicono che ci dovrebbe essere un miglioramento. Però aspettiamo il bollettino che di solito viene emanato intorno alle 16. Restano ancora alcune zone abbastanza critiche. Nella percorribilità sono quelle alte della città. La via Scovazzo di congiunzione tra Sant'Anna e via Santo Spirito. E poi ancora Poggio Sant'Elia, la zona alle spalle dell'ospedale, dalla quale è ancora difficile scendere. Torniamo a Gela e Don Vincenzo Cultraro, 67 anni, il nuovo parroco della Chiesa Madre, prende il posto dello scomparso grazie all'abiso. Cultraro è stato presentato ieri dal vicario generale Antonino Rivoli alla messa vespertina. La scelta è del vescovo Monsignor Rosario Gisara. Don Cultraro ha ricoperto per 20 anni l'incarico di rettore del seminario diocesano, oltre che di vicario del vescovo per la liturgia. Appena tre mesi addietro Cultraro era stato nominato parroco della Chiesa di San Giovanni Evangelista dopo l'addio di Don Alessandro Crapanzano, che aveva lasciato la parrocchia di Bacchitella per sopraggiunti limiti di età. Al posto di Cultraro il vescovo ha nominato Don Giuseppe Siracusa, parroco della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Siracusa, 46 anni, è stato fino ad oggi vice parroco della Chiesa di Sant'Antonio, dove ha affiancato Don Michele Mattina. Riconfermato nel suo ufficio di segretariato del vescovo Don Pasqualino di Dio, che continuerà regolarmente a ricoprire il servizio avviato con il vescovado di Monsignor Michele Pennisi. Proseguono nella parrocchia Beata Vergine del Monte Carmelo a Gela, retta da Giuseppe Bentivegna, i festeggiamenti per il Santissimo Crucifisso. Il programma oggi prevede alle 18.30 la messa con la partecipazione del CAV, Centro di Aiuto alla Vita, con le mamme in attesa. La festa del Santissimo Crucifisso è prevista per mercoledì 11 gennaio. Si tratta di un appuntamento profondamente sentito dai gialesi. Appuntamento questa sera alle 21 con la trasmissione 10 domande 10. Nostro ospite sarà il consigliere comunale del Partito Democratico Romina Morselli. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18.00. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico. Nastro adesivo, penne, carta a carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelli, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli, elettrici e nonna, cassette audio e video, floppy disk, cd, dvd, spugne sintetiche e stracci sporti, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozzicone di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o incolorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale, assemblea pre-congressuale della Federazione Nazionale Pensionati Cisla di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, si terrà mercoledì 11 gennaio alle 9.30 nella sala riunioni della parrocchia San Giacomo di Gela. All'ordine del giorno, la situazione politico-sindacale, la costituzione del coordinamento zonale dei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera e l'elezione dei delegati al congresso territoriale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Ai lavori parteciperanno Salvatore Montalbano, segretario generale territoriale della Federazione ed Alfio Giulio, segretario generale regionale. Venerdì 13 gennaio, appuntamento con la notte dei licei classici alle 17.30 all'Eschilo di Gela. È previsto un incontro con i genitori e gli allunni delle terze medie e subito dopo ci saranno dei momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali. Dalle 21 a mezzanotte, musica da discoteca. E adesso apriamo la pagina dello sport, il calcio, secco 3 a 0 del Gela al Pomigliano. Il girone di ritorno nel campionato di Serie D comincia nel migliore dei modi. I biancazzurri entrano in zona playoff. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Gela. 3 a 0 al Pomigliano e Gelesi che scavalcano in classifica i campani, centrando così la zona playoff nel girone I del torneo di Serie D. Un 2017 che inizia con il botto per la formazione biancazzurra che rifila tre reti al Pomigliano con Montalbano. Buonaffini e Nassi, gli ultimi due entrati nel secondo tempo è in grado di illuminare con la loro classe la partita. L'avvio è tutto di marca giulese con i campani che pensano a tenere a bada la squadra di casa. Alla tredicesimo la prima vera occasione per il Gela con il colpo di testa di Campanaro che da buona posizione sul secondo palo prova di testa di infilare la retroguardia degli ospiti ma trova sulla sua strada un attento portiere al colino. Al ventiduesimo grande apertura di Kosovan per Chidichimo che per un non nulla non si porta tu per tu con l'estremo difensore campano. Pomigliano comunque attento e ben messo in campo che controlla con autorità le folate offensive dei giolesi. Le occasioni migliori per i padroni di casa arrivano sui calci piazzati. Al venticinquesimo punizione velenosa di Candiano in mezzo all'area di rigore con Montalbano che in tuffo manca la deviazione vincente per una questione di centimetri. Le occasioni per gli ospiti arrivano con il contagocce. Al trentaduesimo Gela vicinissimo al gol con Candiano che dentro l'area di rigore avversaria serve Montalbano invece di calciare direttamente in porta. Azione sciupata ma da lì a poco il Gela troverà comunque la rete del vantaggio. Al quarantunesimo infatti arriva la doccia fredda per i campani con il gol dell'1-0 firmato da Montalbano che sul filo del fuorigioco la mette dentro raccogliendo il tiro di Candiano da fuori aria non trattenuto da Alcolino. Si va al riposo con il Gela in vantaggio di una rete a zero e un secondo tempo tutto da vivere. Nella ripresa il Pomigliano prova subito a rimettersi in careggiata passa appena un minuto e Manfrelotti mette i brividi al Gela con un tiro di sinistro da buona posizione che lambisce il palo. Al settimo altra gli otto occasione per gli ospiti con la Briola che potrebbe metterla dentro con facilità ma sulla sua strada trova un super saitta a dire di no. Nel momento migliore degli ospiti arriva il gol del raddoppio del Gela. Assiglarlo è il neo entrato Bonaffini con la complicità della difesa del Pomigliano che battezza fuori un pallone che fuori non è con Bonaffini appunto che realizza il gol beffando la retroguardia campana. 2-0 è gara in salita per gli ospiti che poco dopo rimangono pure in dieci per l'espulsione di Moracci. La rete del 3-0 la mette dentro Nassi con facilità al 38esimo con la squadra ospite oramai alle corde e con la testa già al viaggio di ritorno. E a fine partita abbiamo raccolto la testimonianza dal tecnico gelese Pietro Infantino. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Dopo le soste non c'è una buona lettura del momento. Credo che l'unico pericolo era questo. Però loro hanno dimostrato veramente di voler essere protagonisti in questo campionato. Hanno affrontato un avversario che sicuramente oggi non ha dimostrato i punti che ha in classifica. Credo che questo è il merito del Gela che li ha attaccati sempre. Magari al primo tempo siamo stati poco cattivi sotto porta e potevamo sbloccare la partita prima. Però devo fare i complimenti a questi ragazzi che hanno dimostrato il gruppo. Quando vedi segnare a Morizio Nassi e tutti vanno a abbracciarlo, credo che questo è lo spirito che noi vogliamo, che abbiamo creato. Siamo contenti, abbiamo fatto esordire a Marco e un 2000. Questo significa che il Gela vuole crescere. È uno spunto per far vedere che il Gela sta buttando le basi per il futuro. Credo che è un momento molto positivo e siamo molto contenti. Il primo tempo è stato giocato abbastanza bene, molto aggressivo, veloci. Loro sono rientrati sicuramente dopo l'1-0. Però i primi minuti del secondo tempo sono entrati bene in campo. Hanno dimostrato lì in quei 20 minuti che sono una squadra che se la può giocare fino alla fine. Però poi il Gela credo che abbiamo aggiustato qualcosa perché si stavamo un po' allungando. Davamo il pallino del gioco dei due centrali che creavano Sovraetana d'America al centrocampo. Poi l'abbiamo attaccato un po' più alto e poi Alessandro ha inventato questo gol che sicuramente ha spezzato quel momento positivo che loro avevano. Noi siamo ambiziosi, credo che dobbiamo essere umili ma ambiziosi nel senso che il motivo del lavoro quotidiano deve essere sempre per migliorarsi e per guardare sempre in più in alto possibile. Credo che questi ragazzi, oggi dicevo, siamo partiti da questa partita il 4 settembre e non abbiamo mai perso quello spirito. E noi se continuiamo ad avere questo spirito di gruppo, chi gioca fa la loro parte credo che il Gela nel giorno di ritorno può essere protagonista come stanno dimostrando adesso. Continuano gli appuntamenti inseriti nell'82esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 15 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano a Gela si darà il concerto pianistico a quattro mani con Calogero Lupo e Giuseppe Francolino. Musica, giochi e divertimento anche quest'anno sono stati gli ingredienti vincenti dell'unticesima edizione della Befana Bianconera dello Juventus Club Doc di Caltanissetta Rampulla Pessotto. Una manifestazione che ha richiamato oltre 180 tifosi della squadra bianconera soci del club che si sono ritrovati assieme per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della convivialità. Un'occasione per brindare al nuovo anno ed eleggere la Befana del club titolo quest'anno assegnato a Rosa Fiandaca che ha distribuito i premi e i regali ai più piccoli. Quest'anno la novità è quella che abbiamo cambiato location e quindi non è che ci siamo trovati male per carità dove eravamo ma quest'anno abbiamo voluto farla a Caltanissetta dato che si tratta dell'undicesima edizione solo esclusivamente per far venire più soci all'interno di questa serata. Essere juventino è un vando, esserlo doc è un privilegio, questa è una cosa che mi sono inventato io e quindi è una cosa bellissima per tutti quelli che fanno parte dei club doc. Ospiti d'eccezione dell'undicesima edizione della Befana Bianconera presentata da Mariangela Riz ed Alessandro Silverio, il mitico stopper della Juventus a cavallo degli anni 70 e 80 Sergio Brio e l'attaccante Toto Schillaci di cui si ricordano ancora le prodezze e i gol al campionato del mondo 1990 dove conquistò il titolo di capocannoniere. Sono stati anni magnifici nella Juventus, stare per 16 anni mi hanno sicuramente inorgoglito perché da piccolo fan della Juventus, fan della Juve mi ritrovo a giocare nella Juve e poi fare l'assistente di Trapattoni. Quindi sono stati anni magnifici che ricordo affettiosamente e sono indelebili nella mia mente. Ci ricordiamo tantissimi successi ma ci sono stati anche delle partite che abbiamo perso e quindi quelle sono forse le partite che ricordo con meno simpatia, con meno orgoglio. Io intanto volevo ringraziare Lillo perché non è la prima volta che io vengo a Catanissetta e questa è la seconda volta che presento a questa manifestazione la Befana e poi in comunità del Juventus Club DOC di Catanissetta sono molto contento di far parte e di essere qui stasera soprattutto per festeggiare la Befana e poi il fatto che si parla di Juventus per me è un grande piacere e un grande onore perché essendo juventino da piccolo e poi avendo militato pure nella squadra della Juventus è un enorme piacere stare qui con loro. Diciamo che quel periodo dell'89-90-93 sono stati tre anni stupendi, favolosi dove mi ha permesso di raggiungere obiettivi importanti, vincere qualcosa con la Juve e tuttora continuo a lavorare per la Juve, con la Legend e questo mi fa un enorme piacere. Omini, mezzi, omini, ominicchi e quacora qua è il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello e che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della Biblioteca Comunale in Via Butera a Gela. Relazionerà Biagio Pardo alla presentazione, interverranno tra gli altri Angelo Vasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese. La pagina dello spettacolo in proiezione al Cineteatro Antitodo di Macchitella a Gela alle 17.30, il cartone animato Rock Dog alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione. Abbiamo concluso con l'informazione cinematografica, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.